Ma che ma fai che andrà senza mangiare? Ho portato i panini con la mortadella via nonna. Ma come i panini con la mortadella? La nonna via. La nonna? Questa è secca, ma sviene, mangiti i panini con la mortadella che li faccio qua. Ma deve cantare. Non ridete. Che questa non si sente male, stanno cavato, signor. Ma io ho fatto entrare questa cosa qua. Ma la nonna, vabbè, grazie. Una crozza la nonna di Annalisa Imperatore, dai. Sei preoccupata. Abbattina a casa. Ascoltiamo invece una bellissima canzone dalla voce di Annalisa, Hero. Grande successo di Mariah Carey. Vai, Annalisa. There's a hero If you look inside your heart You don't have to be afraid Don't want you out There's an answer If you return to your soul The sorrow that you know Will made the way Then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside your heart Look inside your heart Look inside your heart be strong And you finally see the truth That a hero lies in you It's a long road When you face the war alone No worries Is on your hand For you too You can't fall off If you search within the sun The emptiness you bear Will disappear Then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside your heart be strong And you finally see the truth That a hero lies in you Love is known Love is known For the heart to follow And you won't let anyone Take their own way Oh God There will be tomorrow In time You'll find a way And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside your heart be strong And you finally see the truth That a hero lies in you 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 Complimenti davvero Anissa Imperatore insieme con il maestro Daniele Rocchi Bene io volevo fare un saluto anche a Margherita Tamanti Che è venuta a salutarci Perchè sarò ospite da lei il 16-17 Per questa manifestazione di beneficenza Perchè sarò ospite da lei il 16-17